Se un uomo delle SS dovesse prendermi a calci fino alla morte, io alzerei ancora gli occhi per guardarlo in viso e mi chiederei con un'espressione di sbalordimento misto di paura per puro interesse nei confronti dell'umanità, mio Dio ragazzo, che cosa mai ti è capitato nella vita di tanto terribile da spingerti a simili azioni? Questo è un pensiero tratto dal diario di Etty Illesum, al secolo Esther Illesum, insegnante e filosofa di origine ebrea, nata in Olanda nel 1914. Etty proveniva da una famiglia colta, una famiglia non tradizionalista per quello che riguarda l'ebraismo ed era stata libera di studiare sia la psicologia che la psicanalisi, che la sociologia e la letteratura ed era diventata anche un insegnante. Quando le cose si misero in modo drammatico, grave, per quello che riguarda l'inizio della persecuzione dei ebrei da parte della Germania nazista, con i primi venti di guerra, i genitori di Etty pensarono di trasferirsi in America. Ma Etty era contrario a questa cosa e malgrado quando in seguito la situazione peggiorò e cominciarono le prime deportazioni nei campi di concentramento in Polonia, in particolare verso Auschwitz, Etty pur potendosi salvare grazie a delle conoscenze importanti, decise di rimanere dove era e continuare la sua azione di solidarietà nei confronti di chi aveva bisogno. E soprattutto delle persone che erano a rischio e in pericolo per la deportazione. Aveva 27 anni quando iniziò a scrivere e a raccogliere le sue considerazioni in un diario, raccontando tutte le sue esperienze, i suoi incontri. E a un certo punto, conscia del pericolo che correva, a ridosso dell'internamento che le avrebbe costato la vita nel campo di Auschwitz, raccolse tutte queste sue scritture e le consegnò a un'amica perché ne custodisse memoria per i posteri ed eventualmente predisponesse una pubblicazione di questi suoi pensieri. E così è stato. A 29 anni fu internata nel campo di Auschwitz, dove erano già stati internati i genitori e il fratello, che non erano poi riusciti a partire per l'America e salvarsi. Avevano trovato lì la morte. E così fu per lei nel novembre del 1943. Ettyle, su ma solo i 29 anni, avrebbe finito la sua vita, pur breve, anche se molto molto intensa, nel campo di Auschwitz.